Riccardo, cosa puoi dirmi di... Alla quarta prova di questo mondo del kart calabrese, cosa si muove di positivo o al limite di negativo? Io credo più positivo che negativo, o no? No, no, è tutto negativo. Addirittura? Perché i pelotti stanno diminuendo giorno per giorno, gara per gara stanno diminuendo. Quali le cause secondo te? I costi, ci sono troppi costi e poi le gestioni delle piste non vanno bene. Vabbè, io mi avvicino ad Amato dopo tanti anni, mi pare di aver visto un attimo di organizzazione in più, insomma, rispetto a qualche tempo passato. Sì, solo che c'è troppa, come te devo dire, troppa... Disciplina? Troppa disciplina. Invece di accogliere la gente a questo sport, lo stanno distruggendo del tutto. Grazie a tutti.